Queste qua sono le stanze che ho trovato perché mi hanno dato la cittetta del coso, dell'altra prenotazione. Ho trovato al volo questo albergo qua, ma da non credere, la mia camera è il 566 e questa è la stanza, fuori, ha la rete da Pollagno in cima It's amazing Greetings from Chinatown